Ciao a tutti di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per commentare la ventitresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allora, iniziamo come al solito dalla classifica, in vetta della classifica c'è sempre la Juve, Juve prima con 63 punti, 11 di vantaggio sul Napoli secondo. Lotta per la Champions League dove invece hanno vinto tutte, è rimasto invariato il discorso, l'Inter guida il gruppo a 43 punti, 4 punti di vantaggio sul Milan quarto e 5 sul gruppetto di 3 squadre, Atalanta, Roma e Lazio. Insomma, una lotta per la Champions League che è davvero davvero molto interessante. lotta per la salvezza dove il Chievo a 9, lo vedo ormai con un piede e mezzo in Serie B, non ha secondo me tantissime possibilità di salvarsi, anzi non ne ha quasi nessuna. Fa un balzo in avanti il Forsinone che sale a quota 16, meno 2 dalla coppia Empoli e Bologna, per il resto la classifica nelle zone basse è rimasta invariata. Sarà una lotta tra le ultime 5-6 squadre a giocarsi la permanenza in Serie A, per intenderci dalla spalla in giù chi più chi meno saranno quelle le squadre. Detto poi della classifica, vediamo un po' come sono andate le cose partita dopo partita. Nei primi due anticipi Lazio e Roma vincono facendo il loro dovere, vittoria di misura 1-0 della Lazio contro l'Empoli, non ho visto la partita, ho visto solo gli highlights. Una vittoria non brillantissima, però comunque importante per la Lazio che la tiene in corsa per la Champions. La Roma vince 3-0 sul campo del Chievo, una vittoria abbastanza agevole. La Roma l'ha sbloccata subito con un 1-2 nel primo quarto d'ora, dopo l'ha gestita abbastanza bene. Ha abbassato un po' troppo il baricentro giusto solo nella seconda metà del primo tempo, però comunque niente di grave perché poi nella ripresa i giallorossi hanno anche fatto il terzo con Kolarov, un'ottima ripartenza devo dire. Hanno gestito comunque tutto sommato bene la partita e hanno portato a casa questa vittoria sicuramente importante e convincente. Nelle altre gare, nell'anticipo di sabato, Napoli pareggia 0-0 sul campo della Fiorentina. Firenze che continua ad essere un campo difficile per i partenopei. È stata una bella partita intensa, combattuta, un pareggio giusto perché la Fiorentina si è dimostrata un avversario tenace, ha tenuto bene il campo, a tratti ha anche fatto la partita senza tuttavia essere mai davvero pericolosa. Il Napoli le sue occasioni le ha avute ma veramente le ha sprecate nel modo più incredibile. La Font poi ha disputato sicuramente una buona partita e questo ha consentito alla Viola di poter portare a casa il pareggio. Poi nella gara di sabato sera torna a vincere l'Inter, vittoria 1-0 sul campo del Parma. Una vittoria non facilissima però comunque meritata quella dell'Inter. Una gara che nel primo tempo ha visto un Inter assolutamente sterile in fase offensiva contro un Parma attento, messo bene in campo, che è stato pericoloso in un paio di ripartenze. Nel secondo tempo il Parma inspiegabilmente non è sceso in campo. L'Inter logicamente ha preso in mano il pallino del gioco, senza tuttavia essere mai davvero pericolosa, fino all'occasione che poi ha portato al gol vittoria. Gol segnato da Lautaro e il Toro Martinez a un quarto d'ora dalla fine. Gol segnato in contropiede che ha permesso all'Inter di poter portare a casa la vittoria dopo il gol. L'Inter ha gestito bene la partita senza praticamente rischiare una vittoria importante da parte dell'Inter che era al termine di una prestazione comunque nel complesso direi accettabile, non brillantissima, però quello che contavano erano sicuramente i tre punti. Nelle gare di domenica poi 1-1 nel lunch match tra Bologna e Genoa, nello scontro salvezza tutto rosso-blu. Un pareggio che secondo me serve a poco per i Felsinei, visti i risultati delle altre partite, però comunque il Bologna con Mijailovic sta mostrando uno spirito battagliero, cosa che con Inzaghi non si vedeva e con questo atteggiamento direi che il Bologna può sicuramente salvarsi. Nelle gare del pomeriggio poi l'Atalanta vince 2-1 in rimonta contro la Spal al termine di una partita molto bella e si tiene in lotta per la Champions League. Bene anche il Torino che vince 1-0 contro l'Udinese, sale in classifica e continua nella sua striscettina positiva. Risultato poi sorpresa invece è la vittoria 1-0 del Frosinone contro la Sampdoria, una vittoria che rilancia i ciociari nel discorso per la salvezza. Bene poi il Milan 3-0 nel posticipo serale contro il Cagliari, ottima vittoria da parte del Milan che lo tiene al quarto posto in classifica. Un Milan che ha giocato davvero un'ottima partita, l'ha sbloccata subito con un autorete, poi l'ha tenuta sempre in mano, ha giocato molto bene in tutti i reparti, ha segnato tre gol, ha sofferto in un paio di circostanze con Giovedo, dove però Donnarumma si è fatto trovare pronto, Piontenk e Paquetà si stanno confermando due giocatori importanti per i rossoneri. Vado cauto col definirli i nuovi Kakà e Shevchenko, però sicuramente si stanno rivelando degli acquisti azzeccati. Poi nella partita delle 18 la Juve vince 3-0 sul campo del mio Sassuolo, una Juve che si dimostra una squadra coesa, autoritaria e cinica, poiché due dei tre gol sono nati su errore del portiere del Sassuolo. Nel primo ha fatto un rinvio che non capisco che cazzo di senso avesse, nel secondo poi è uscito veramente come un pesce, Ronaldo non ha avuto problemi a depositare la palla in rete, piccola parentesi consigli, è un portiere limitato nelle uscite, non iniziate a rompere i coglioni con sta storia di scansuolo, scansuolo, scansuolo. Consiglia il portiere della mia squadra, saprò dove è bravo e dove no. Poi comunque il Sassuolo nel complesso secondo me non ha giocato una brutta partita, ha iniziato bene con una buona personalità, senza tuttavia riuscire ad essere incisivo, le uniche occasioni erano dei tiri da fuori e dopo si è eclissato una volta che ha subito il gol del 2-0, perché fino al 65-70 il Sassuolo era in partita. Comunque sia perdere contro la Juve ci sta, è la squadra più forte del campionato, pensiamo alle prossime partite sul campo dell'Empoli e in casa contro la Spal, partite dove si possono assolutamente fare punti, dove dobbiamo fare punti per poter continuare il nostro campionato positivo e cercare di scalare qualche posizione in classifica. Nonostante la sconfitta io comunque sono contento della mia squadra, sono contento del mio presidente, sono contento della mia società, sono contento del mio allenatore, sono contento di questi fantastici colori e nonostante la sconfitta vado in giro con questa maglia e anche domani, anche dopo domani andrò in giro con questa maglia. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi e ovviamente forza Sassuolo! Ciao!